signori buongiorno e bentornati sul canale del master care io sono il master care il vostro ospite su questo canale con la fine dell'anno viene il momento di guardarsi indietro e riflettere sugli eventi passati che ci hanno portato dove siamo l'anno scorso per capodanno abbiamo parlato della nascita di Dungeons & Dragons terza edizione e dell'avvento dell'SRD 3.0 a seguito dell'acquisto da parte della Wizard of the Coast della TSR quell'evento diede nuova linfa all'intero settore dei giochi di ruolo sia per i publisher con un incremento astronomico e le copie dei giochi venduti sia per i giocatori stessi perché la quantità di giocatori aumentò di milioni c'erano milioni nuovi giocatori di ruolo in tutto il mondo sembrava proprio che per il gioco di ruolo fosse arrivato il periodo delle vacche grasse poi arrivò il 2003 correva l'anno 2003 il forum sociale mondiale riunito a Portoallegre chiedeva ai paesi dell'onu di firmare un veto per la pace con cui mettere al bando il concetto di guerra preventiva per portare pace e stabilità sull'intero pianeta due mesi dopo Bush bombardava preventivamente l'Iraq accusando Saddam di aver usato le armi chimiche che produceva dentro un camper per uccidere la pecora Dolly lo so che la motivazione ufficiale non era questa ma questa è più credibile la scienza scoprì un decimo pianeta al limite estremo del nostro sistema solare ma mancando ancora due anni all'arrivo di google maps fortunatamente Bush non riuscì mai a trovarlo per i giocatori di ruolo era un periodo fortunato il gioco di ruolo si è diffuso enormemente grazie alla d20 stl moltissime case di produzione indipendenti avevano cominciato a produrre materiale d20 system dopo tutto era un ottimo affare fin tanto che ti attenevi al contratto in licenza che la wizard of the cost aveva diffuso potevi produrre tutto il materiale che volevi e utilizzare i marchi ufficiali d20 system e dungeon of the dragon fondamentalmente potevi produrre materiale ufficiale per dungeon of the dragon senza dover pagare la licenza di utilizzo alla wizard of the cost l'affare era così buono che dozzine se non centinaia di piccoli produttori indipendenti ci si buttarono immediatamente come ogni webmaster sa la narrazione nasce dal conflitto e questa non sarebbe una buona storia se non ci fossero dei contrasti ovviamente quando lasci alla gente la possibilità di pubblicare quello che vuole il problema è che poi questa pubblica quello che vuole magari cose inappropiate magari cose a cui non vorresti venisse associato il tuo marchio cosa succederebbe per esempio se il tuo principale concorrente pubblicasse come d20 system ufficiale un'ambientazione molto cupa basata su temi crudi in cui gli eroi sono dei tossicodipendenti che trafficano allegramente con i demoni assolutamente niente la caosium infatti pubblicò con il d20 system un'edizione speciale del proprio strong bringer uno dei titoli di testa della casa californiana e la wizard ne fu così entusiasta che prese i diritti per pubblicare lei stessa una versione d20 del richiamo di cthulhu che è l'altro grande titolo della caosium esiste un manuale del richiamo di cthulhu curato a monte cook è una cosa che trascende i limiti della ficchezza c'è da dire però che l'horror decadente del richiamo di cthulhu e la crudezza pulp di strong bringer sono cose che facevano scalpore all'inizio del secolo precedente i ragazzi degli anni 2000 erano molto più scafati di così si identificavano già con degli anti eroi considerate che quell'anno al cinema usciva pitch black il primo della serie di riddick e the snatch di gay ritchie questi ragazzi sicuramente non si facevano impressionare dal pulp anni 20 30 se le cose si facessero più coupe invece un manuale che non solo parlasse di droga e satanismo ma scendesse in dettagli macabri di stupri necrofilia sociopatia omicida niente nemmeno in questo caso anzi la wizard aveva pubblicato lei stessa già nel 2002 il manuale delle fosche tenebre e lo fece curare direttamente da monte cook suo autore di punta della casa nonostante le polemiche che quel manuale si era portato dietro tracy hickman uno dei due attori di dragon lens all'epoca lo definì terrorismo del diventi la wizard aveva usato proprio il fatto che il manuale fosse destinato a un pubblico adulto nel suo merchandising pubblicitario per il lancio dell'edizione apparentemente la wizard aveva deciso di lasciare il massimo della libertà artistica sia ai propri che agli editori delle altre case si era comportata in maniera professionale aveva rinunciato a una fetta del mercato in modo da favorire lo sviluppo del gioco di ruolo in generale non si era tirata indietro dal pubblicare materiale che sarebbe potuto risultare controverso anzi ne aveva favorito lo sviluppo e aveva creato una branca del gioco di ruolo come intrattenimento per adulti e non materiale per ragazzini un comportamento così serio e professionale che in realtà all'inizio quando era stata ufficializzata l'Srd 3.0 molti avevano ritenuto che non fosse in grado di tenere e ha ragione il manuale della discordia infatti ci fu agli inizi del settembre del 2003 la valar project una piccola casa di produzione indipendente di seattle annunciò la prossima uscita del book of the erotic fantasy un manuale che sarebbe stato prodotto con la d20 stl di esplicita natura sessuale in risposta la wizard of the cost decise di aggiornare con effetto immediato la licenza stl aggiungendo una clausola chiamata standard di qualità in cui si richiedeva a tutti i publisher di soddisfare degli standard minimi di decenza nel palese tentativo di impedire la pubblicazione del manuale della valar in realtà questa manovra non servì altro che ad affossare la reputazione della wizard e della stl il book of the erotic fantasy infatti fu comunque pubblicato ebbe solo qualche mese di ritardo perché la casa editrice dovette rivedere l'edizione per rimuovere tutti i riferimenti al materiale ufficiale wizard il motivo ufficiale dell'opposizione alla pubblicazione fu che la wizard non voleva il proprio nome associato a qualcosa che avesse potuto rivelarsi volgare o non adatto a un pubblico generalista anche se come opinione personale devo dirvi che questo materiale ha veramente molto poco di inadatto o non appropriato al grande pubblico mi dispiace deludervi ma di erotic qui c'è veramente poco a meno che non vi eccitiate con incantesimi di contraccezione e tabelle dedicate al risultato degli incroci internaziali soprattutto considerato quello che la wizard aveva già pubblicato tra il materiale promozionale per l'uscita del libro delle fosche tenebre sul numero 95 di dragon era stato pubblicato un modulo d'avventura inedito la cui storia rivolgeva appunto intorno a un rituale satanico in un tempio sconsacrato che terminava con un suicidio di massa durante un'orgia come riflessione puramente personale posso dire che l'unica cosa che ho trovato nel book of erotic fantasy che non è presente in altre pubblicazioni sia ufficiali sia ufficializzate sono riferimenti palesi e un'esplicita accettazione dell'omosessualità ora lungi da me dire che questo è il motivo per cui la wizard ha voluto boicottarlo in ogni modo non fu comunque un singolo manuale a minare la credibilità e la wizard sarebbe assurdo il fatto però che alla fine di quell'anno l'intera licenza di 20stl fu ritirata dei dubbi li fece venire che la licenza non sarebbe durata in eterno era da sempre chiaro a tutti i publisher il fatto che nessuno si aspettava che venisse ritirata dopo neanche tre anni dalla sua emissione e soprattutto non con così pochi mesi di anticipo che impedirono a molti publisher di prepararsi questo fu fatto perché la wizard si stava preparando a mettere sul mercato una versione riveduta e corretta del d20 system 3.0 il sistema 3.5 quello che diventerà poi l'arcinota dungeons and dragon 3.5 il passaggio dalla 3 alla 3.5 per i giocatori in realtà fu abbastanza minore nella nuova edizione erano state riviste le classi erano state ribilanciate alcune capacità distribuite meglio gli altri chi all'epoca giocava un ranger probabilmente ancora se la ricorda ammirato la nuova edizione sparivano alcuni talenti e alcune abilità altre venivano accorpate per rendere un attimo più fluido il gioco dal punto di vista editoriale invece scatenò il caos perché nonostante i cambiamenti fossero minori il fatto di aver ribilanciato le classi aver fatto sparire alcuni talenti abilità ma soprattutto il fatto che avevano cambiato alcuni termini chiave nella definizione delle azioni di combattimento faceva in modo che tutto il materiale prodotto per la 3.0 diventasse immediatamente obsoleto e non compatibile con quello che stava venendo pubblicato nel materiale ufficiale il materiale poteva essere adattato anche facilmente ma era comunque un lavoro in più che veniva richiesto al master molto spesso da fare al volo durante le sessioni in più il cambiamento di licenza prevedeva anche che tutto il materiale non ancora distribuito venisse ritirato con conseguenti perdite economiche alle ditte che avevano dei manuali che non potevano più mandare negozi e anche molti dei manuali che nei negozi c'erano già rimasero comunque invenduti perché io come master dovrei spendere soldi per comprarmi dei manuali che sono dichiaratamente obsoleti soprattutto quando quei soldi devo spenderli per comprare i nuovi tre manuali base ufficiali della wizard molte case si ritrovarono con dei manuali su cui avevano già investito parecchi soldi impossibili da commercializzare a meno di non spendere ulteriori soldi per compatibilizzarli alla 3.5 in più con l'avvento della 3.0 erano nate tantissime piccole case non di pubblicazione ma di distribuzione che si occupavano appunto di far arrivare nei negozi il manuale di terza parte tantissime di queste semplicemente fallirono per via del caos economico che ne era derivato quindi anche le case di pubblicazione che riuscivano a compatibilizzare i monomanuali avevano problemi a farli arrivare nei negozi perché mancavano i distributori tutto questo portò molte case minori a fallire e molte delle case maggiori a lasciar perdere il tradement agreement e spostarsi sulla olg che però per via di casi come quello del book of erotic fantasy e altri manuali di terze parti decisamente di scarsa qualità era già precedentemente mal vista da molti giocatori che semplicemente si rifiutavano di comprarla nel giro di fondamentalmente pochi mesi una buona fetta e l'industria dei giochi di ruolo fu semplicemente spazzata via e la wizard guadagnò una fetta ancora più grande imponendosi come leader assoluto del mercato ha 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 ben sei sei proprio un birbone ci furono anche dei risvolti inaspettati ad esempio la troll lord game storica casa produttrice americana una delle più vecchie del settore ha pubblicato molto materiale dello stesso gygax decise di prendere del tutto le distanze dalla wizard e dalla 3.5 e produsse il proprio sistema di gioco di ruolo da loda venti castle and crusade che è considerato tutt'oggi quello che ha aperto la strada al movimento dei retro cloni all'interno del gioco di ruolo da tavolo ma come diceva il narratore della storia infinita questa è un'altra storia e magari ne parleremo in un prossimo video per questo video invece è tutto se avete domande dubbi o perplessità lasciate un commento nell'area qui sotto se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale io sono il master cae e vi auguro buone feste